Napoli, sette giornate, sette vittorie e primo posto in classifica per il Napoli. Un bilancio brillante per la squadra di Sarri, che sta dimostrando grande sicurezza, dice Corrado Ferleino, ex presidente del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Finora, spiega l'imprenditore napoletano, non ha affrontato le principali avversarie, ma ha comunque battuto la Lazio, che è una bella squadra. Ritengo che questa sicurezza possa essere un vantaggio, mentre ai tempi del primo scudetto subentrò una certa paura. Ma il vero artefice di questi grandi successi è Sarri. Ha moltissimi meriti, continua Ferleino, ed è il vero maradona del Napoli attuale. Nel calcio di oggi, vincere uno scudetto porta quasi al raddoppio degli ingaggi, e ha tanti altri fattori. Fare il presidente del Napoli è davvero difficile, soprattutto se vivi a Napoli. Ma nei temi trattati da Ferleino non c'è solo la sua ex società, ma anche il VAR. A me piace e credo che debba piacere anche al Napoli, dice Ferleino. Che aggiunge. In passato, qualche squadra era stata favorita più delle altre, mentre ora è più difficile. Sono convinto che alla Juventus non piaccia il VAR.